Ciao ragazzi, è giunto il momento di farvi una proposta insolita E vi chiediamo, quanti di voi almeno una volta nella vita hanno subito il fascino di un appuntamento al buio? Eh no, non si tratta di un incontro romantico Sapete quanto io ami le auto, quindi sì, la protagonista è un'auto misteriosa Non posso dirvi nulla di lei, ma sarete voi, conoscitori e fini intenditori, a dover capire di cosa si tratta Con una prova molto speciale Il blind test Come funziona? Molto semplice Dovete inviarci una foto di voi con la vostra auto, la macchina che usate tutti i giorni per andare a lavoro o in vacanza Tra tutte le foto che arriveranno selezioneremo tre di voi che mi accompagneranno in questa avventura al buio L'obiettivo è quello di coinvolgere tutti i vostri sensi per riuscire a capire qual è l'auto misteriosa Guidandola, toccandola, annusandola Ve la sentite? Molto bene Allora cosa state aspettando? Tutte le candidature devono arrivare entro e non oltre il 15 maggio E tutte le istruzioni le trovate qui sotto nella descrizione del video In bocca al lupo Tutto ebbe inizio con Ma oggi è il momento di fare un grande passo Perché il futuro è di Omniauto sta cambiando Ma noi rimaniamo sempre gli stessi Motorone.com It's coming